In Mido interpreto il ruolo di Alex Vinci che è fidanzato con Sara. Stanno vivendo un momento difficile perché hanno perso un figlio. Sara è nuovamente incinta ma decide di non dirlo ad Alex. Decidono così di passare un fine settimana con amici nei boschi, ignari che forze sovrannaturali si abbatteranno su di loro. Tenteranno ovviamente di salvarsi ma sarà difficile. Non sanno che proprio queste forze sovrannaturali si sono abbattute su di loro proprio perché lei sta aspettando un figlio. Ovviamente non posso rivelare oltre, lo capiremo vedendo il film e lo capiremo soprattutto vedendo anche i film successivi. Perché John Rial, il regista molto giovane ma molto capace e attento, tra l'altro vincitore del Globo d'Oro l'anno scorso per il suo primo lungometraggio Native, ritiene questo primo film un inizio di una lunga saga. È un prologo, un prologo che continuerà con altri film. Io credo che il film vi coinvolgerà perché il regista ha saputo in maniera attenta e capace calibrare due elementi assolutamente inediti per il genere thriller. Ovviamente la tensione, i colpi di scena, la paura ma anche la forte emozione. Insomma un'ora e venti, un'ora e venticinque di puro coinvolgimento da suspense ed emozioni. Vi aspettiamo al cinema dall'11 aprile, Midway. Grazie a tutti.